Questo è un progetto pilota che rientra nel fondo della montagna, che ammonta a circa un milione e due, però abbiamo messo una parte di questo finanziamento per questo progetto pilota in collaborazione con l'Università di Teno per fare anche lì attività inclusiva per cercare di valorizzare la montagna, perché spesso se ne parla ma poche sono attività per cercare di attenuare il disagio che spesso questi centri di montagna hanno rispetto ai centri più industrializzati. Sono previsti dei corsi per formare dei ragazzi che possono promuovere il nostro territorio, ma anche delle iniziative per quanto riguarda l'accessibilità, per avere una montagna aperta a tutti e per mettere anche un turismo inclusivo. Questo per il tramito l'Università, questo progetto pilota riguarderà tutte le zone montane della provincia di Teno, ma poi, appunto perché è pilota, sarà esteso all'intera regione Abruzzo. Sono contento di questa iniziativa, anche perché c'è un partner che è l'Università di Teno di tutto rispetto, quindi sono convinto che raggiungeremo degli obiettivi importanti, perché la nostra montagna è bellissima, è un centro sicuramente attrattivo che va valorizzato e dobbiamo anche saper accogliere i turisti con questi corsi di formazione vogliamo appunto formare delle persone al riguardo. Un progetto che la Regione, che ringrazio, ha voluto presentare presso il nostro Ateneo a dimostrare la collaborazione con l'Università di Termo e con il sistema universitario abruzzese in generale, che in questo momento mi onoro di rappresentare. e quindi partecipazione dell'Università legata sia ai percorsi formativi che il progetto prevede, sia al, come dire, il trasferimento dei risultati della ricerca sul territorio.